E a proposito di elezioni diamo anche uno sguardo a quelli che sono i dati relativi alla percentuale di affluenza alle urne nei comuni chiamati al voto, dati che riprendiamo dal sito del Ministero dell'Interno. E allora vi dico che in Abruzzo su 72 comuni chiamati al voto la percentuale di affluenza alle urne alle ore 12 è del 13,76% contro il precedente dato che è pari al 20,16%. Per la provincia di Chieti i comuni chiamati al voto sono 24, in questo caso la percentuale di affluenza alle urne alle ore 12 è del 13,87% in calo rispetto al 20,23% che era il dato di riferimento precedente. In provincia dell'Aquila abbiamo detto 29 comuni, percentuale pari al 14,55% contro il 21,19%. Pescara ha 11 comuni, la provincia di Pescara ha 11 comuni chiamati al voto, la percentuale di affluenza alle urne in cui è del 12,55% contro il 19,23%. Teramo invece ha 8 comuni nella sua provincia che dovranno rieleggere il Consiglio Comunale e il Sindaco. Qui la percentuale di affluenza alle urne alle ore 12 è del 13,44% contro il 19,37%. Questo è l'altro dato di riferimento. Veniamo adesso ai 5 comuni più grandi chiamati sempre al voto. Abbiamo per il comune di Francavilla al mare la percentuale di affluenza alle urne che è del 14,31% contro il 19,52%. Il comune di Lanciano, sempre in provincia di Chieti, ha una percentuale che è pari al 14,35%, il dato precedente era del 19,46%. Ancora in provincia di Chieti abbiamo vasto la percentuale di affluenza del 13,65% contro il 20,27%. In provincia dell'Aquila ci spostiamo adesso nel comune di Sulmona, 13,89% sono gli elettori che si sono recati alle urne alle ore 12 contro il 18,42% della precedente tornata elettorale. Infine in provincia di Teramo, Roseto degli Abruzzi, la percentuale qui è del 12,88% in calo rispetto al 18,66% che è la percentuale di affluenza delle ore 12 della precedente tornata elettorale. Questi dati dunque del Viminale che provvederemo ovviamente ad aggiornarvi.